Questa nuova carica ha un design estremamente innovativo. Ma contiene elementi tradizionali della storia di Ferrari, la storia di Ferrari, come l'enginio, il rear-enginio in VU, tipico del carico sportivo 8 cilindro Ferrari. Tutti i valori di design sono guidati dall'aerodinamico, ma il risultato finale è molto legato e essenziale. Non c'è solo una mappa con una pilla centrale che sostiene due pinze che possono avere una deformazione in high speed per migliorare l'aerodinamico. La visione estremamente semplice, classico e clean design. Una soluzione innovativa è una pinza di parte che convegge l'air ai radiatori per l'optimizzazione dell'aerodinamico. Per quanto riguarda l'aerodinamico, la parte principale della parte principale sono le due luci per il cuore dell'enginio, l'exito dell'air dall'enginio. La parte parte, particolarmente innovativa, sono i elementi stranieri, come due pinze che funzionano come faiare delle ruote per l'aerodinamico e i elementi centrali che sceglie da l'aerodinamico che contengono due pinze di pinze e una pinza centrale. Grazie per l'anima!